Salve, sono Alessandro Bartoli della Bosking Biker di Empoli e ormai noi siamo conosciuti in tutta Europa quelle famose bicilette con il motore invisibile, quelle da strada che ormai vendiamo appunto in tutta Europa e anche oltre. Dopo diversi anni di richiesta, quasi tre, molti ci chiedevano una front suspension di 29 o 27,5 in carbonio di alta gamma con il motore nascosto e la batteria nascosta. Dopo tre anni di gestazione siamo riusciti a fare questa bellissima bicicletta, questa bellissima bicicletta che ovviamente ha anche un costo molto importante, però è una bicicletta esclusiva, ovviamente a livello mondiale c'è soltanto questo tipo di bici, non ce ne sono assolutamente altre, in quanto questa bicicletta ha la particolarità di avere un carbonio ai mod su misura, quindi pensiamo di essere di fronte al primo telaio in carbonio da mountain bike di 27 o di 29, la richiesta appunto del cliente, che è esclusivamente su misura, quindi si può decidere la geometria e le dimensioni del telaio a proprio piacimento. Oltre a questo, qui per esempio è montata la forcella lefty carbon di Cannondale, qui ci sono montate le ruote 27,5 plus come vuole ora l'ultima diciamo tendenza e soprattutto c'è montato a motore e batteria nascosta. Quindi che cosa succede? Che questa bicicletta pur essendo senza nessun filo, senza nessuna batteria all'esterno, basta picciare un pulsante nascosto, girare il pedale e parte il motore. Questa bicicletta ovviamente sarà una bicicletta dedicata a chi può fare delle girate in maniera un po' più importante, senza però durando meno fatica, ovviamente c'è sempre il motore austriaco di circa 200 watt che dà sempre una bella iniezione di potenza e oltre a essere una cosa molto importante perché è totalmente invisibile, voi sapete benissimo che su tutte le biciclette elettrici che sono o batterie o batterione.